Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video che sarà un video haul su prodotti Bottega Verde Video haul rimediato all'ultimo minuto perché ho fatto un acquisto di impulso da Bottega Verde mentre tornavo esausto da una mattinata di giri di lavoro e mentre andavo in realtà stavo andando al Mondador Store per prendere delle cose didattiche per i miei nipoti e poi alla fine finisco sempre per prendergli queste cose qui, carini comunque e dunque mentre andavo al Mondador Store sono passato davanti alla vetrina di Bottega Verde dove avevano esposto la loro nuova linea al Caffè Verde quindi non ho resistito anche perché avevo già in mente di farmi una doccia perché ero da buttare, infatti mi sono appena docciato e vi posso dare anche le prime impressioni su, dunque ho preso 4 prodotti e ne ho già utilizzati 3 prime impressioni quindi non ho una vera e propria review anche perché, ok, stasera vado a nuoto ma devo stare tutto il giorno a casa a lavorare volevo essere pulito, così adesso mangio e sono pulito perché sono un po' fissato dunque appunto c'erano in vetrina la loro nuova linea che credo che sia uscita proprio, se non oggi, ieri al Caffè Verde è una linea che include anche dei prodotti anticellulite che io non ho preso perché, sì, qualche maniglietta dell'amore c'è ma la cellulite per fortuna ancora no e quindi ho preso i prodotti che mi interessavano e ho preso il gel doccia di energia con estratto di Caffè Verde mix di oli essenziali 3,49 euro in totale ho speso 25 euro, tanto per e questo qui ha un odore buonissimo l'ho già provato perché ci ho appena fatto la doccia e devo dire che mi piace non è completamente verde, di verde ha solo il nome però mi ha lasciato veramente la pelle molto idratata ed ha un profumo molto fresco ma non è per esempio come il gel da doccia quello alla menta che a me piace molto sempre di Bottega Verde che però ti dà anche un effetto ice che non sempre mi piace questo invece è fresco nel profumo ma molto avvolgente poi e idratante diciamo che in generale tutti i bagno doccia di Bottega Verde finora mi sono piaciuti invece poi a 12,49 euro quindi neanche poco 250 ml di questa crema anti smagliature che non è assolutamente verde e che promette il 95% di riduzione degli inestetismi cutani delle smagliature io ci credo poco a questi prodotti però ne rimango sempre abbagliato quindi trattamento anti smagliature anche questo con estratto di Caffè Verde mix di oli essenziali allora anche questo mi dispiace un pochino che non è verde perché io cerco di prendere prodotti verdi non tanto per un discorso di salute perché non credo che la pelle assorba tutto certo a meno che non ci sono scessori di formaldeide però non ho i titoli per dirlo ma non credo che i prodotti con i siliconi siano proprio pericolosi però so benissimo che i siliconi e quant'altro le cose sintetiche alla fine vanno a finire diciamo nello scarico della doccia e questo mi dispiace devo dire anche che però con la crema scolpito anche per questo l'ho comprato perché l'ho appena finita che è l'altra crema di Bottega Verde per le smagliature che ha un pochino di siliconi mi sono trovato sempre benissimo perché queste texture sono più facili e veloci da utilizzare detto questo come mi sono trovato con questo prodotto? allora ha un odore un po' più forte che devo dire la verità non mi è piaciuto tantissimo perché sa un po' di erba la texture è buona si assorbe subito cioè si asciuga subito diciamo immediatamente però lascia un po' ecco io adesso sento un po' di appiccicaticcio cioè lascia quella credo che sia proprio fatto apposta perché non è che ti lascia unto ma ti lascia appiccicato che dà una sensazione di pelle più soda vedremo come si comporterà non ne ho messa un po' quindi forse ne dovevo mettere di meno vedremo come si comporterà nelle 8 settimane in cui loro dicono che io riscontrerò una riduzione del 95% degli inestetismi cutanei delle smagliature vedremo poi ho preso due sciampi anche se sono pieno di sciampi però mi mancavano i sciampi con i siliconi perché dice oddio cosa dici? sì questi sono pieni di siliconi in realtà li ho pagati tutti e due 3 euro e 99 l'uno quindi neanche poco per 250 ml di solito io per 4 euro compro gli sciampi ecobio online però allora io ho i capelli molto grossi e molto crespi adesso li sto facendo crescere da un paio d'anni perché mi voglio togliere questo spizio prima dei 40 anni e sono molto belli mi piacciono a me i miei capelli però appena lavati sembro un pochino farafosset cioè ho i capelli enormi allora li lavo tutti i giorni perché non sopporto di sentirli unti, sporchi però effettivamente il giorno dopo prima di lavarli noto che i capelli sporchi sono più belli cioè si pettinano meglio riflettono meglio insomma sono veramente più maschili anche perché scendono meglio allora quando ogni tanto magari utilizzo dei sciampi con i siliconi noto che i capelli sono più facili da pettinare anche se uso sempre il balsamo e comunque sono è come se fossero più sporchi prima diciamoci la verità sono forse più sporchi allora questo alla creatina e cashmere non l'ho provato oggi credo che la formula sia stata rinnovata ma l'ho provato in passato e mi è piaciuto tantissimo anche il balsamo infatti non l'ho preso ma credo che lo prenderò ha un odore meraviglioso e ti fa i capelli bellissimi anche perché gli ingredienti ripeto sono quelli oggi invece ho provato questo qui che è di una nuova linea alla mela verde aloe per capelli normali diciamo anche qui ci sono i siliconi e l'odore è meraviglioso si cioè sa proprio di mela verde l'ho provato adesso e ancora devo asciugare i capelli quindi vi posso dare una prima impressione parziale però vi dico che mi è piaciuto perché li lava bene si sciacqua molto bene e me li ha lasciati comunque idratati almeno al primo alla prima impressione di capelli bagnati idratati non secchi ho usato comunque il balsamo però non appesantiti quindi mi sembra abbastanza buono poi basta mi hanno lasciato ah no con i due prodotti della linea caffè verde potevo acquistare io l'ho presa a 99 centesimi la borraccia che penso darò a mio ripote perché ci gioca lui con queste cosette però mi piaceva a 99 centesimi tanto a 10 centesimi ho acquistato anche la busta perché adesso te la fanno pagare poi di bustina allora mi ha lasciato uno shampoo cheratina e cashmere che ho acquistato quindi vabbè e poi mi ha lasciato due shampoo alla vena quelli per capelli cute e delicata e poi la maschera effetto la maschera no scusate la crema gel viso 24 ore pelle miste e grasse quella della linea effetto lifting che credo abbiano rinnovato la formula acido ianuronico e estratti fiori di loto io questa già l'ho provata perché mi avevano già dato un'altra bustina e non mi è piaciuta ma non mi è piaciuta a parte che è così ma non mi è piaciuta perché ha i brillantini quindi non mi piace perché se no la texture è buona poi mi hanno lasciato ovviamente il cataloghino degli sconti che vi ho fatto vedere l'altra volta quindi non mi dilungo dove ci sono i vari scontini di cui approfitterò e il catalogo dei capelli 2.0 nuove formule sempre più green quindi si hanno rinnovato comunque le formule quindi questa questo lo devo provare perché quello che ho usato che aveva anche una confezione diversa probabilmente era diverso e qui trovate tutti i loro prodotti con i prezzi oltretutto quelli pieni quindi andate poi in negozio per vedere gli sconti e niente questo era il video il rimediato cioè cioè di un acquisto di impulso da Bottega Verde vi farò poi sapere una volta che avrò finito i prodotti quando andiamo a buttare insieme le confezioni di plastica se effettivamente nel medio lungo periodo hanno mantenuto le loro promesse ok grazie e buona giornata grazie a tutti